pct facile il primo podcast per avvocati tecnologici ciao e benvenuto su pct facile il primo podcast pensato per avvocati tecnologici io sono francesco vosati autore e curatore e ti do il benvenuto alla puntata numero 15 su come l'informatica e le nuove tecnologie innovano le professioni oggi tutte le professioni sono digitali anche quelli intellettuali ti annuncio che domenica prossima primo maggio andrà in onda una puntata speciale del podcast festeggiarà insieme con te questi mesi di vita ripercorrendo insieme le 15 puntate pubblicate sarà occasione per te che ti sei da poco abbonato al canale telegram ti sei aggiunto su itunes o speaker o sul sito avvocato tecnologico punti di scoprire insieme questo racconto l'evoluzione in vite degli avvocati di fronte ai grandi cambiamenti del processo telematico per te che sei un utente storico sarà invece occasione di ripercorrere insieme questa avventura ti ricordo sempre che mi puoi condividere i tuoi feedback commenti e suggerimenti nelle modalità indicate nella sigla di chiusura puoi diventare anche produttore esecutivo delle prossime puntate collegandoti alla pagina paypal.me slash chef vosati lascia un'offerta libera il tuo nominativo sarà citato in coda oggi scopriremo il produttore esecutivo della puntata iniziamo il digital ha proiettato le professioni in una nuova dimensione lavorativa per loro cultura conservatrice i professionisti sono portati ad accogliere il nuovo con una certa diffidenza nel settore della giustizia vede da ultimo il processo telematico tuttavia oggi dobbiamo parlare di professionista digitale in un momento di grandi trasformazioni sociali e di dinamiche relazionali si impone sempre di più l'esigenza per i professionisti di impiegare al meglio e strategicamente le nuove tecnologie in un'ottica di miglioramento collettivo i nuovi professionisti non solo devono imparare a gestire strumenti nuovi come i social network ma anche fare propri concetti come la condivisione e la collaborazione come ci ricorda Gianmarco Boccanera già protagonista della puntata numero 6 oggi il modello di lavoro non è la competizione totale uno contro l'altro si impone ai professionisti il nuovo paradigma di lavoro e vita sociale che ha le fondamenti in tre imperativi connetti collabora e condividi connetti senza connessione internet non possiamo fare nulla è ormai in atto la tendenza di riconoscere all'accesso alla rete una dimensione di diritto soggettivo si parla sempre di più di cittadini digitali collabora nessun uomo è un'isola il valore del pensiero collettivo si esprime con la collaborazione degli utenti nascono nuovi modelli di business basati sulla share economy condividi una volta raggiunto il risultato che ti ha arricchito personalmente e professionalmente c'è l'esigenza di condividere con altri che fanno parte del tuo ambito lavorativo personale o professionale per far circolare questo arricchimento il meme l'informazione in questa ottica diventa fondamentale usare strumenti più innovativi rispetto a forme di comunicazione tradizionali in questo modo e lo studio professionale cresce in orizzontale e non in verticale e le informazioni e le idee circolano e soprattutto rimangono in rete grazie alle forme di indicizzazione dei motori di ricerca come google bing o yahoo viviamo anche un ricambio generazionale sempre più cittadini digitali si connettono alla rete anche da dispositivi mobili non più e solamente dal computer di casa e dell'ufficio secondo audi web i dati sono relativi al mese di febbraio 2016 gli italiani che si sono connessi almeno una volta da un pc o da un dispositivo mobile sono stati 28,5 milioni la media degli utenti giornaliere è di 22 milioni con una media di connessione di 2 ore e 7 minuti in modo sempre più mobile tramite smartphone e tablet che da pc anche tu starai ascoltando questo podcast dal tuo smartphone posizionarsi nella rete anche con il proprio sito web diventa vitale per la propria sopravvivenza professionale per questo diventa quindi fondamentale saper usare le conoscenze e le competenze tecniche di cui ogni professionista è portatore insieme alle nuove tecnologie per facilitare i processi di espressione del sapere tecnico con competenza e deopetenza non bisogna essere necessariamente dei tecnici informatici ma semplicemente degli utenti appassionati così possono circolare le idee i memi attraverso forme di comunicazione innovative integrate twitter facebook e linkedin sono solo alcuni dei social network che possono contribuire al successo e alla diffusione non solo di concetti ma anche di valori con cui il professionista digitale è chiamato a confrontarsi stai ascoltando pct facile il primo podcast per avvocati tecnologici sempre gianmarco boccanera ci ricorda che oggi il professionista digitale deve essere un facilitatore di processi deve tendere a semplificare deve aggiungere valore attraverso l'art dell'eupotenza la capacità di rendere facile e agevole il processo per aprire nuove strade insieme alla competenza la specializzazione in determinate materie tipiche delle attività professionali dobbiamo tendere a facilitare il processo a liberare lo svolgimento dell'attività umana viviamo un momento storico in cui non è più accettabile complicare gravare il costo sociale ma diventa accettabile e riconoscibile liberare lo svolgimento dell'attività umana facilitare dobbiamo cambiare il rapporto con il tempo che passa dobbiamo adottare nuovi paradigmi di lavoro e di vita dobbiamo superare il modello precedente oggi fallimentare più passa il tempo e più il professionista guadagna è necessario ridisegnare tale rapporto invertendo la tendenza meno tempo passa più il professionista ci guadagna sia in termini di riconoscibilità sociale sia in termini economici ormai la tempistica della durata dei processi si sta riverberando in modo negativo sui guadagni dei professionisti il cliente non è più disposto a finanziare le lungaggine delle procedure ai danni dei professionisti infatti non concede più strade di avanzamento dei lavori integrazione dei fondi spese non ha tempo da perdere perché il mondo corre le nuove tecnologie servono anche a cambiare il rapporto rispetto alle soluzioni più semplici la soluzione di essere disconnesso dalla rete non pagherà nonostante la crisi e le azioni di delegittimazione in corso il professionista conserva ancora oggi un ruolo sociale nella collettività depositario di sapere tecnico unico da tramandare e condividere alle generazioni successive appunto connetti collabora e condividi oltre che per il contributo al sapere umano i professionisti sono anche un valore economico 2 milioni di liberi professionisti così come censiti dal mef equivalgono a un apporto economico di 197 miliardi di euro pari al 15 per cento del pil per non perdere questo valore aggiunto i professionisti digitali devono saper cogliere le opportunità che si sono aperte alla luce della riforma delle professioni l'abolizione delle tariffe professionale stimola il professionista a contare di più sulle sue capacità sulla propria competenza e sull'eupetenza la capacità di facilitare la possibilità di farsi pubblicità tramite il social network inteso come rete sociale molto estesa è occasione di veicolare l'immagine la riconoscibilità del professionista la società digitale e la gestione delle risorse umane ed economiche impongono nuovi modelli di strutture non più verticali oggi fallimentare per gli alti costi di gestione e del moltiplicarsi dei centri di decisione ma orizzontali si parla sempre più di networking fare parte di reti di professionisti con cui condividere materie competenze aspettative lavori nascono strutture di smart office e co-working in tutta italia pensati proprio per professionisti digitali come te che stai ascoltando questo podcast ad esempio anche a velletri e di prossima inaugurazione il 2 maggio il primo co-working della techno assist srl un nuovo modo di ripensare lo studio legale in smart ti condividerò l'apposito articolo i concetti di condivisione e collaborazioni si impongono all'attenzione di tutti ormai grazie anche ai social network lo sharing di documenti ed esperienza diventano un'opportunità un vantaggio collettivo e competitivo non solo per il singolo professionista ma anche per l'intera categoria di cui fa parte e in un'ottica sempre collettiva anche del sistema paese se ancora deciso a non diventare professionista digitale attendo i tuoi commenti tramite il contatto telegram chiocciola fposati o la pagina about.me slash fposati concludo nel ringraziare il produttore esecutivo di questa puntata sonia dimasi la quale si è collegata alla pagina paypal.me slash fposati a te che stai ascoltando ti ricordo di votare il canale telegram e di lasciare un commento su itunes per far scoprire il podcast pct facile ad altri utenti ciao alla prossima e ti ricordo che viviamo il futuro digitale segui pct facile su avvocato tecnologico punto it su tumblr e su telegram contatta l'autore francesco posati per idee suggerimenti richieste su about.me slash fposati o scrivi a me chiocciola francesco posati punto it sostieni il podcast tramite paypal.me slash fposati grazie a tutti Grazie a tutti.